Sull'omicidio alla cava Manzona, vecchia, in cui ha perso la vita Salvatore Chianese, guardia, giurata e la civis Augustus, avvenuto il 30 dicembre. Sono ancora molti gli aspetti su cui gli investigatori dell'arma dei carabinieri, coordinati dal PM, Daniele e Barberini, stanno cercando di fare luce. Da dove ha sparato il killer? Dove si era postato l'assassino in attesa dell'arrivo del metronotte? Quanti colpi sparati? L'omicidio è stato compiuto da un'unica persona o quella notte erano più di uno gli assassini presenti? Alcuni di queste risposte potrebbero essere ottenute grazie ai sopralluoghi che gli inquirenti stanno effettuando alla cava tra Fosso Ghiaia e Savio. Questo pomeriggio, intorno alle 15, alla cava, i carabinieri sono tornati sul luogo del delitto assieme a due colleghi del Resti Parma, giunti a Ravenna come consulenti balistici, incaricati dalla procura di stabilire la dinamica dell'omicidio e ricostruire il maggior numero di elementi possibili sul luogo del delitto, da incrociare con le verifiche che verranno fatte sulla vettura. Gli esperti balistici si sono fermati all'ingresso della cava per circa un'oretta. Hanno osservato a lungo il punto in cui ha trovato la morte chianese, mentre si sono concentrati meno sulla zona circostante. I due consulenti balistici torneranno a Ravenna nelle prossime settimane per mettere insieme i diversi pezzi di questo puzzle che al momento non sembra trovare una rapida soluzione, mentre da parte degli inquirenti continuano gli interrogatori per cercare di dare un volto all'assassino e trovare una risposta all'altra grande domanda perché chianese è stato ucciso?